E' già io che ti ho conosciuto qui nel Ritilo in questi due giorni, ragazzo splendido, ragazzo che sta a stare in mezzo ai ragazzi e questo per noi è importante, sono questi personaggi che cerchiamo noi qui alla selva come il nostro inviato Nerio che ci presenterà direttamente in hotel in 2004. A te Nerio! Buonasera Massimiliano e grazie per la linea. Come vedi questa sera non mi trovo sui campi ma mi trovo direttamente allo Sporting Village Hotel qui a Castelli Sangro per presentarvi la squadra dei giovanissimi 2004. Adesso uno per uno vi li presenterò e in poche parole diranno il loro nome e cognome, il loro ruolo e la squadra di provenienza. Dunque cominciamo con il primo dei nostri ragazzi, presentati! Ciao sono Omar Sugamele, ho il ruolo di centrocappista e in precedenza giocavo con il centro sportivo Primavera. Grazie Omar Ciao sono Samuele Claro, sono difensore centrale e in precedenza giocavo con il centro sportivo. Ciao mi chiamo Gabriele Donati, come ruolo faccio difensore centrale e provengo dalla società selva a casa. E aggiungo che lui è il nostro capitano. Ciao sono Paolo Pinzeri, come ruolo faccio il centrocampista e giocavo già al selva. Ciao sono Giulio Prattaroli, faccio il centrocampista e giocavo al selva già dall'anno scorso. Ciao sono Cristian Mazzoni, faccio come ruolo la punta e provengo dal centro sportivo Primavera. Ciao sono Matteo Pilzi, sono attaccante sinistro. E provenivo dal Primavera. Ciao sono Timone Conforti, faccio il portiere e già l'anno scorso stavo al selva a casa. Ciao sono Cristian Mazzoni, vengo dal centro sportivo Primavera e faccio il centrocampista centrale. Ciao sono Leonardo Poluzzi, come ruolo sono esterno destro e già provenivo dal selva a casa. Ciao sono Timone di dietro, faccio l'attaccante e vengo dalla città a Briglia. Ciao sono Matteo Grisci, faccio il terzino sinistro e vengo dal selva. Ciao sono Vipo Barbato, faccio l'attaccante e provenivo dal selva. Ciao sono Marcello Finizio, faccio l'attaccante e vengo dal centro sportivo Primavera. Ciao sono Leonardo Fabriani, faccio il portiere e vengo dal Roma Sport City. Ciao, io sono il fuori quota. Benissimo Massimiliano, come hai visto abbiamo presentato la squadra e come vedi il clima è molto euforico, i ragazzi sono molto contenti, infatti qualcuno si è divertito in questa piccola intervista. Volevo solo aggiungere una cosa, che a questa squadra bisogna aggiungere tre elementi che per loro motivi personali non sono potuti intervenire a questo ritiro, che sono Anzellotti Matteo che è un portiere e già l'anno scorso stava con noi al selva Academy, visto Gianna Achille anche lui è del selva Academy lo scorso anno e fa il centrocampista, e non per ultimo Paternesi Gianluca, lui è una punta e anche lui giocava con noi con il selva Academy. A questo punto non mi resta che salutare tutti quanti voi, darvi appuntamento a domani per darvi le ultime sugli allenamenti, a questo punto Massimiliano ti passo la linea e auguro a tutti una buona serata.